...convincenti, quindi direi che ora come ora questo punteggio è meritato. Bellissimo primo piano intanto per Angelica Sabra, io che è parte la musica di Alexander. Bellissimo questo movimento di collaborazione che deve essere precisissimo perché i cerchi devono passare in successione attraverso le due ginnaste, nella realtà sono le ginnaste che passano attraverso i cerchi, però è un movimento di precisione e comunque deve essere molto morbido e accompagnato. Buonissimi questi rischi perché sono stati anche ripresi in perfetta sincronia, come questo lunge. Buono anche questo scambio. Bellissimo questa serie di combinazioni fatte da rimbalzi, da passaggi in mezzo. Ecco, è stato superato anche il momento critico che ha causato ieri la perdita dell'attrezzo dell'Italia, che ha causato anche il 26,60 perché la nazionale vale di più come punteggio. Ale. Ecco, è stata superato. Ah, timme